La sua non è una provocazione quella di chiedere di dare la delega alla ricostruzione a Sua Eccellenza il Vescovo Leuzzi? No, non è una provocazione, magari dico pure in considerazione del fatto degli ottimi risultati che sta ottenendo il nostro Vescovo, in considerazione delle 29 chiese che tutta la procedura è giunta a termine e quindi inizieranno le riparazioni su 29 chiese e sul nostro territorio. Quindi i miei complimenti al Vescovo per il suo saper fare, a differenza del nostro sindaco che purtroppo ogni giorno fa pubblicità, fa campagna elettorale con la ricostruzione ma dando dei dati sbagliati. Sono arrivati 41 milioni di euro, 75 pratiche dall'inizio dell'anno. Guardi, sono tutti numeri sbagliati e glielo dico perché? Perché di pratiche negli ultimi 5 anni, di danni lievi, sono 149 pratiche. Di 149 pratiche noi ne dobbiamo fare 800. Lui questa mattina ha dichiarato che ha raggiunto il 50%. Bene, questa matematica io la contesto, in considerazione che 149 pratiche, 3 pratiche al mese corrisponde, non sono il 50% di 800. Quindi io invito il mio sindaco a non fare più campagna elettorale utilizzando la ricostruzione, dove è stata una cilecca. La sua opera è una cilecca. E li darò altri dati. Guardi, le faccio l'esempio di Monte Reale. Monte Reale ha raggiunto 110 pratiche. Monte Reale sono 2300 abitanti, nemmeno un quartiere di Teramo. Vogliamo vedere i dati di Montorio? Di Torricella, di Civitella, di Valle Castellana sono superiori ai dati teramani, in considerazione di dover valutare anche l'entità del danno e l'entità della grandezza della città. Allora, sindaco, basta fare campagna elettorale, basta raccontare bugie alla gente. Noi le gru su Teramo non le abbiamo. 147 pratiche su 800 da farne sono una miseria. Quindi l'invito che lei mi faceva dall'inizio, se mai fosse possibile avere una persona come il nostro Vescovo, sarebbe l'unica vera soluzione.